Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 14 aprile 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo gemelli. Sempre vincenti tra se stili pimpanti. Domenica ideale per una serata vitaiola tra amici, complice la luna disinvolta nel vostro segno, amica del sole, mercurio e venere, la goliardia oggi è di casa, il rischio è esagerare un po', tra mojito e caipirina bevete pure ma non guidate. Sotto tiro di Nettuno confuso anche chi è di turno, meno male che i colleghi fanno cordata per coprire il vostro svarione, magari siete anche innamorati ma per ora preferite non farne parola. La versione nostrana di George Clooney o Scarlett Johansson che si è appena affacciata alla solita cricca può essere la ragione della vostra distrazione. La delusione per qualcosa ha preso o prenderà il sopravvento in voi, scarsa fiducia nelle vostre possibilità e capacità. Promesse che illudono, illusione, false speranze, persone che illudono. I single attraverseranno un periodo difficile, disincantati e delusi per le troppe e inutili promesse e le speranze male riposte. La persona che oggi si mostra particolarmente interessata a voi sappiate che non è molto sincera, e soprattutto se siete nati di Marte, mercoledì e domenica dalle 12 alle 19 Fate ben attenzione alle lusinghe. Oggi non trascurate la famiglia, fatevi sentire presenti, sprigionate amore e comprensione. Ne trarrete benefici inimmaginabili. Il silenzio mai come in questo momento è d'oro e si impone, non dimostrare mai di trovarti a disagio in certe situazioni ma studia di uscirne al più presto. Non importa cosa farete oggi, piuttosto come lo farete, particolarmente oggi sarete misurati sulla vostra buona volontà e sulle vostre capacità di mettervi in gioco. Buona la serata se in compagnia di amici fidati. Critiche da parte di parenti sul vostro operato e modo di agire. Potetete tenerne conto oppure passare oltre, oggi doverte decidere se affrontare con educazione e diplomazie questi parenti e far capire loro che la vita è vostra e siete voi a decidere ciò che è meglio per voi. Un conto è far valere le vostre ragioni, un altro è pretendere che il partner sia sempre accondiscendente. Cercate di mediare. Avete gli occhi puntati addosso e l'invidia puntata, per schivare i colpi concedetevi una pausa. Se state vivendo una storia extra con un ugale o clandestina, chiedetevi oggi se avete davvero ancora voglia di proseguire su questa strada. Potreste avere dei problemi per questo motivo, e in questo particolare momento non è il caso. Passionalità. Vantaggi attraverso soldi di altre persone. Abbi più cura del tuo fisico e delle tue cose. Soldi o un regalo improbabile arrivo. La luna nel vostro segno e venere in ariete, insieme favoriscono gli accordi esaltando la capacità di armonizzare le diverse posizioni presenti nell'ambiente. Mercurio, pianeta della comunicazione, si trova in bell'aspetto con il vostro segno dal buon amico ariete e plutone abita nel fidato acquario. Sarà compito di questo duo planetario regolare un mutuo e vicendevole scambio tra i vari componenti del vostro habitat familiare. Ottimali in particolare i rapporti tra fratelli e sorelle e tra genitori e figli, rinforzati dalla voglia di passare il più possibile del tempo insieme. La forma fisica appare abbastanza buona, in pole position le passeggiate all'aia aperta, le partite di calcio tra amici e le traversate in bici. Protagonisti con la luna nel segno, buona amica di Venere e del vostro astro guida Mercurio, tutti abbracciati in ariete, al quale siete legati da un sestile realizzativo. Sono gli amici oggi a dettare le linee guida del weekend ed è a loro e alle loro proposte che vi unite con piacere, esperti come sono in viaggi, svaghi, locali e ristoranti, troveranno la soluzione giusta per tutte le tasche, incluse le vostre che di sicuro non brillano. Amore ed Eros Animo sereno e relazioni appaganti, che si tratti solo di amicizia o qualcosa in più ancora non dichiarato, vi sentite frizzanti e felici, sulla linea di partenza di una nuova avventura. Ci mettete il vostro prezioso consiglio e la calma pazienza per risolvere oggi, con il ragionamento, una questione lavorativa della vostra dolce metà. Darete fondo alle vostre risorse, l'intelligenza, la forza d'animo e riuscite nell'impresa. E incassate infine la sua gratitudine e il suo indubitabile slancio affettuoso. Lavoro e denaro Di progetti ne avete a gogo, ma ancora tutti in formi da strutturare e il weekend pomeriggio non è certo il momento ideale per affrontarli, ora al centro dei vostri pensieri ci sono la natura e il relax, tenete in caldo una buona idea da riprendere nei momenti di ozio. Voglia di cinema e concerto, la musica vi rapisce portandovi lontano sul tappeto volante dei sogni. Una strana tendenza ad essere schietti e sinceri può creare qualche piccolo incidente diplomatico. Nettuno in posizione contraria vi può non offrire la sicurezza in voi stessi per convincere e farvi valere. Fate attenzione a moderare i toni, specie se festeggiate il compleanno dal 9 al 14 giugno. Benessere Trascinati dagli amici il rischio è di bere qualche bicchiere di troppo. Niente di male se il vostro fegato è in buona salute e soprattutto se non siete al volante. In caso contrario non sfidate la fortuna e non fidatevi di compagni d'avventura ancora più brilli di voi, rassegnatevi a un bel salasso tornando con un taxi. Denaro Saturno e Marte si muovono in posizione contraria per il vostro segno e questo può indurvi, specie se nati in giugno, a fare acquisti un po' guidati dall'impulso. Prendete tempo e pensate prima di abbandonarvi a spese pazze. Per lei, con gli amici vi divertite parecchio e tra amiche si fa anche pettegolezzi, tutto bene finché si ride e si scherza, ma guai a toccarvi la sfera intima, la vostra ipersensibilità ne patisce. Per lui, emozioni confuse, vorreste sbrigarvi in fretta e uscire dalla città benefica per correre verso il mare, ma più affannate più guai combinate, lasciate che sia l'intuito a guidare le vostre azioni. Colore delle emozioni, grigio-azzurro. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 6, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.